Ben trovati amici carissimi per una nuova puntata di Vita che rinasce programma realizzato dalla comunità Nuovo Rizzonte in collaborazione con Telepace. Oggi abbiamo scelto di parlare di un tema molto delicato, molto particolare. Qui appunto siamo a Vita che rinasce quindi non abbiamo alcuna intenzione di realizzare una puntata di denuncia ma sempre comunque raccontare speranza, raccontare rinascita. Non voglio svelarvi granché di quello che andiamo a trattare oggi assieme e quindi lascerei direttamente la parola ad Adriano, la persona che ha scelto di raccontarci oggi la sua storia. Vediamola assieme. Io sono diventato testimone di Giova gradualmente seguendo mia madre nel lontano 1965, allora avevo 13 anni, vivevo in campagna, ero un ragazzo di una ingenuità totale, 13 anni nel 1965, non sono i 13 anni di un ragazzo di oggi, non c'era interno, non c'era niente, vivevo tra i polli, le galline in campagna e un nostro zio dalla Svizzera ci portò a questo nuovo verbo, la verità, la verità di Giova e cominciai a frequentare con mia madre e mia sorella questa religione, la congregazione più vicina. Per tanti anni fu affascinante conoscere i testi sacri, avvicinarsi direttamente, c'era tra di noi confratelli delle congregazioni locali un affiatamento, un aiuto reciproco, tutto questo attrae, è uno dei segreti dei testimoni, attrarli attraverso quello che viene chiamato un bombardamento d'amore, attenzione, premura. A quel tempo posso dire che era un amore genuino, vero, c'era un interessamento reciproco per le vicende l'uno dell'altro, se c'era bisogno di aiutare qualcuno lo si aiutava sempre, sinceramente. Poi col tempo, mano a mano che questo gruppo è cresciuto, comunque anche queste dinamiche sono profondamente cambiate. Quando ho avuto modo di lavorare come volontario, la sede dei testimoni di Giova, tra 1975 e 1976, ebbe le prime incrinature, cominciare a vedere un clima o comunque un qualcosa che strideva con quelle che erano le pretese dei testimoni di Giova. Già vedevo un assolutismo nella gestione di questo gruppo, vedevo una strana gestione dei soldi, molto personalistica da parte di chi aveva il potere, perché questo è un aspetto che si scopre mano a mano dei testimoni di Giova, del quale io non mi accorgevo perché ero un ragazzo ingenuo di campagna, cioè sotto sotto c'è una grossa società per azioni, ci sono interessi commerciali immensi e inoltre notavo un clima di paura, di omertà, di ipocrisia, persone che si lamentavano ma non avevano il coraggio di esprimere le proprie idee, si nascondevano, si celavano, tutto ciò mi portò all'interno di questo gruppo a parlare di questi problemi, a cercare di aprire un dialogo con chi dirigeva il gruppo e mi trovai espulso. Avete capito che oggi trattiamo di un argomento molto delicato, la realtà è tutto ciò che ruota attorno ai testimoni di Giova. Allora voglio dare il benvenuto a Vita che rinasce a Rocco Politi. Buongiorno a voi. È venuto a trovarci in qualità di ex testimoni di Giova, Rocco è da anni impegnato in questa battaglia per la verità a riguardo della sua personale esperienza all'interno della congregazione cristiana dei testimoni di Giova. Allora ancora benvenuto a Vita che rinasce e Rocco ti pongo subito questa domanda. Il nostro amico nel video parlava di un bombardamento d'amore, cioè una tecnica con cui si attirano le persone, si fidelizzano gli aderenti. Possiamo salvare almeno la buona fede? Sì, veramente la tecnica che usano i testimoni di Giova è quella di farti quasi, di darti un benvenuto dicendo di Dio ti stava aspettando. C'è proprio questo clima di benvenuto, il posto era riservato per te, questo è quello che ti viene bombardato immediatamente quando li conosci. E poi c'è l'amore, i fratelli, la fratellanza eccetera. Tutto questo è inizialmente diciamo una gran bella cosa per coloro che ci credono e che non sono a conoscenza di tante realtà che poi vanno a contrastare tutto questo inizio di amore che ti viene dato immediatamente. Quindi anche per te all'inizio c'è stato l'amore, poi la repulsione, l'attrazione e poi l'inclinatura? Uguale, identico. Come è successo con Adriano è capitato anche a me e alla mia famiglia. Abbiamo iniziato da piccoli, sì io che mia moglie, grandi passi nell'organizzazione, così chiamata allora, nella verità. Abbiamo iniziato come proclamatori, poi siamo arrivati a fare progresso con fratelli un po' dappertutto, poi tutto un tratto fuori, espulsi e quelli che ti chiamavano prima fratello hanno tramutato il sangue in acqua sporca. Cosa è successo per cui dall'amore siete finiti all'espulsione? Questo avviene perché quando uno non è più d'accordo con i dettami di questa organizzazione, automaticamente viene messo in una prigionia, questa prigionia è quella che ti dice o tu rimani quindi dentro l'organizzazione a quello che essa ti dice e sei sottomesso a quello che l'organizzazione ti sta insegnando o altrimenti vieni buttato fuori. Nel mio caso è accaduto per la morte di una bambina, io dovevo tenermi quale sorvegliante a non dare il sangue e invece abbiamo consentito a una bambina di sette mesi di fare una trasfusione di sangue, questo ha portato me e la mia famiglia ad essere praticamente fuori usciti. Veramente io sono stato buttato fuori, la mia famiglia invece mi ha seguito uscendo fuori. Poi di questo argomento in particolare ne parleremo anche più tardi nel corso della trasmissione. Mi colpisce questa cosa che Adriano nel video diceva che lui ha tentato a un certo punto di dialogare, cioè sentiva il bisogno di in qualche, in un certo qual senso di capire meglio, di probabilmente aveva delle difficoltà che voleva essere oggetto magari di un dialogo e a questa richiesta di dialogo c'è stata l'espulsione. Quindi all'interno dei testimoni di Geova non si può dialogare? Ecco, è molto difficile poter esprimere quello che si prova quando si arriva a quel punto, perché c'è effettivamente la richiesta da parte dell'individuo a una spiegazione del perché sta succedendo tutto questo. Mentre dall'altra parte c'è una severità assoluta e queste persone che devono applicare il dettame dell'organizzazione. Quindi il dialogo non è più amorevole, non è più amorevole, ma è dottrinale, è preciso. Un dettame che ti dice o così o fuori e quindi non c'è un dialogo. Un piccolo paragone vorrei fare perché chi ci ascolta, specialmente i testimoni di Geova, forse possono capire che cosa vuol dire normalmente una nuova vita e capire che cosa intendo dire è che Giobbe visse la stessa situazione. Giobbe perse i figli, perse tutto e Dio lo permise in quella circostanza. addirittura Giobbe fa un bel discorso dicendo non capisco perché mi sta succedendo, sono stato sempre ubbidiente, ho fatto tutto bene a certo posto e poi alla fine muore tutto. Gli amici si dileguano come un fiume che diventa secco e così via. C'è il capitolo 6, versetto 14 che dice anche quando un uomo ha dimenticato Dio ha bisogno del tuo aiuto. Questo loro non lo fanno. Quindi lo esorto ai testimoni di Geova a capire quello che la Bibbia vuole insegnare, cioè al dialogo, l'amore, la comprensione, cose che questa organizzazione non c'è. Anche perché è abbastanza normale che nel corso della vita uno possa avere dei dubbi, anche di fede, perché no? Ecco, Adriano arriva a questo punto, l'espulsione dalla congregazione dei testimoni di Geova. Lui tuttavia nel cuore mantiene questo desiderio di andare avanti nel corso del suo cammino di fede. Vediamo come prosegue la sua storia. Quando entri fra i testimoni di Geova, quello che ti viene insegnato è che questa è la verità e questi sono i tuoi fratelli. Tutti il resto dei contatti devono essere, non dico troncati, ma comunque minimizzati. Non puoi avere amici veri fuori dal gruppo dei testimoni di Geova. I parenti che non sono testimoni, ma non li frequenti più. Finisce che tutto il tuo gruppo, tutta la tua vita è solo con gli amici testimoni di Geova e con i parenti che sono testimoni di Geova. Quando esci dal gruppo sei solo. Il dramma di una persona che va in crisi, di un testimoni di Geova che va in crisi, ma ha tutti i parenti, gli amici che sono testimoni e che in pratica non ti puoi confessare a loro. Facciamo questa differenza, diciamo di un Mario Rossi, testimoni di Geova, però lo è solo lui, non la madre, non la sorella, non il fratello, non la moglie. Per lui è facile confidare questa crisi agli altri, che magari lo aiutano anche a superarla, perché gli altri non sono testimoni di Geova. Quando tutti gli altri sono testimoni di Geova, tua madre, tua sorella, i tuoi nipoti, tua moglie, i suoceri, è difficile perché tu vai a confessare la tua crisi a persone che non solo non possono capirla, ma devono trasformarsi in testimoni contro di te nel comitato giudiziario che subirai. Quando esci dai testimoni di Geova sei solo, tanto più se magari pure i tuoi parenti sono testimoni di Geova. Ma Rocco, a me risulta che nel Vangelo Gesù arrivi a dire amate addirittura i vostri nemici, non c'è quindi un controsenso. Il testimone di Geova è un'organizzazione che effettivamente nell'insegnamento fa molta confusione. Da una parte insegna l'amore, dicono che loro sono i primi perché vanno di casa in casa, ma dall'altra parte c'è la mancanza totale d'amore, specialmente quando questa mancanza totale d'amore viene poi paragonata a versetti tipo quelli della Bibbia che dicono se anche i tuoi peccati fossero rosso-porpora, su, vieni, mettiamo le cose a posto, dice Dio. Rosso-porpora. Ora non credo che Adriano o la nostra situazione sia diventata così rosso-porpora, ma ci sono veramente centinaia di versetti della Bibbia dove lo stesso Gesù dice io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvarlo. Spesso viene citato questa espressione della Bibbia, Gesù non è giudice, mentre loro giudicano la persona, la buttano fuori e quando si è fuori da quel portone è veramente un continuo calvario, giorno dopo giorno una sofferenza totale perché non c'è più nessuno, nessuno ti aspetta fuori da quella porta perché tu li hai tutti snobbati, erano tutte cattive compagnie che corrompono le utili abitudini. Quindi bisogna stare attenti a conoscere i testimoni di Geova perché quando iniziano l'amore, Dio ti sta aspettando e così via, ma non ti dicono che se dissenti e vieni buttato fuori vivi questo ostracismo brutale che veramente non lo auguro a nessun nemico. Ecco allora faccio un passo indietro. Nel momento in cui una persona vive all'interno della realtà dei testimoni di Geova e un pochino alla volta fa terra bruciata, cioè seleziona le proprie amicizie, per cui diventa quasi normale che tra le tue frequentazioni devi solo avere testimoni di Geova, giusto? Sì. Ma questo non vorrei esagerare con le parole, ma mi sembra un meccanismo tipico delle sette. Assolutamente così, perché i testimoni di Geova creano dei veri e propri soldatini, a tal punto che oggi i testimoni di Geova non si presentano più alle case delle persone come testimoni di Geova, ma come volontari studiosi della Bibbia, quindi altrimenti la gente non li accetterebbe più come testimoni di Geova, ormai sono saturi. Ecco loro sono per produrre, produrre per questa organizzazione e quindi avviene un controllo totale da parte di chi prende la direttiva degli anziani e non hai più tempo di dedicare al nonno, all'azio, al parente. Come è successo a noi? Abbiamo visto morire i nonni, abbiamo visto morire i nostri addirittura genitori, parenti, amici, senza aver avuto la possibilità di avere un rapporto normale con loro. Ecco, parenti e amici, mi è colpito che nel video Adriano arriva a dire i miei parenti devono essere testimoni contro il me in un processo interno. Perché devono? Perché quando fuoriesci dai testimoni di Geova automaticamente, come ho detto prima, il sangue viene trasformato in acqua sporca. Faccio un esempio sulla mia stessa persona. In questo momento mio padre ha l'ultima volta fatto presente una telefonata di mia moglie, di a mio figlio che non ha più un genitore. E sa perché? Perché ha visto l'intervista che i miei fratelli hanno ritenuto opportuno prendere mio padre a sederlo davanti a un televisore, ecco l'amore dei testimoni di Geova, e far vedere a un uomo di 85 anni e dire guarda cosa sta facendo il tuo figlio in Italia. E mio padre si è messo a piangere, guardando quello che sto facendo, ha detto di che non ha più un figlio. I miei fratelli non salutano più, hanno sposato i loro figli, non mi hanno chiamato, non ci chiedono. A Modena c'è stato il terremoto, nessuno ha chiamato per sapere siete vivi, avete bisogno. Chi ci ha chiamato sono i zii cattolici, quelli che noi abbiamo sempre detto che Dio distruggerà, questi sono invece persone che ci hanno telefonato per dire come state. Ma i testimoni di Geova nessuno ha chiamato, fratelli, amici, conoscenti e così via. E' amore questo? No, è triste perché l'amore se non è basato sui fatti diventa retorica, no? Ecco, parliamo di un fatto, un fatto che capita ad Adriano nella sua vita, che mette fortemente in discussione le sue convinzioni. Vediamo assieme. Una bimba affetta da talassemia, l'anemia mediterranea è molto diffusa in Sardegna e i genitori si opposero alle trasfusioni per cui morì. Era il caso Oneda. Io seguì quel caso direttamente, cioè andai ai processi, mi pagavano le trasferte alla società per andare a Cagliari, perché avevo trovato un medico legale che ci sosteneva. Rimasi sconvolto da questa mamma che da una parte non poteva trasfondere la propria figlia, perché sarebbe andata incontro a un comitato giudiziario e un'espulsione. Dall'altra però si augurava e colpevolizzava lo Stato come dire perché non l'avete trasfusa voi. Ecco, questa fu una cosa che mi mandò profondamente in crisi. Oltre al fatto, qui ometterò per diciamo giusto dovere il nome, che in un viaggio mentre andavamo all'aeroporto per prendere l'aereo per Cagliari, l'allora numero due dei testimoni di Geova, parlando della problematica delle trasfusioni, si è riuscì con una frase semplice, agghiacciante che ricordo tuttora. Disse in Italia non ci siamo ancora riusciti, ma in America siamo riusciti a far morire il bambino. come dire, egli vantava come una vittoria che in America si fosse riusciti a ottenere il diritto di far morire il minorenne, mentre in Italia intervengono le autorità, ti levano la patria potestà e ti sostituiscono. Questa frase io me la ricorderò tuttora, eppure sono passata adesso credo 30 anni, 30 anni esatti, più o meno 30 anni. Io dissi come si può essere contenti perché in America si è ottenuto il risultato di far morire il bambino, cioè abbiamo piegato la legge alle nostre esigenze, se noi non vogliamo trasfondere il nostro figlio, tu leggi e ve lo lasci morire. Poi fece un'altra riflessione, quel signore che pronunciava questa frase non aveva figli, perché tutti coloro che servono come volontari nella sede filiale dei testimoni di Geova possono essere sposati, ma non possono avere figli. E allora io dissi, ma se questo signore avesse figli, avrebbe ragionato così? Eppure questo era, ed è tuttora credo, un alto dirigente dei testimoni di Geova. Allora ti rendi conto del cinismo, cioè si gioca con la vita degli altri, si gioca con le morti degli altri, perché tanto non ti tocca. Mi rendo conto che sono parole pesanti quelle che abbiamo sentite, però di fatto i fatti dicono questo, è semplice cronaca di alcuni episodi che ci sono stati in Italia e anche altrove. Rocco, ci provi a spiegare bene questa faccenda della trasfusione? Devo fare una piccola correzione, non sono alcuni casi. Io ho fatto presente in televisione già diverse volte, chiedendo con la documentazione che avevo, chi deve controllare i morti di questa organizzazione. Nessuno l'ha mai fatto, nessuno mi ha querelato, ma nessuno ha mai fatto nulla. Ho anche detto che quando i testimoni di Geova cambieranno questo loro insegnamento, e probabilmente forse lo faranno, perché dal 15 di luglio di quest'anno hanno iniziato un cambiamento epocale in mezzo ai testimoni di Geova, allora se cambieranno quello avranno lasciato sul campo di battaglia centinaia, centinaia di migliaia di morti. Non è poco quello che sto dicendo e sono realtà e molti di questi sono bambini. Il caso Neda non è l'unico e quello che diceva per quanto riguarda il discorso dell'America, abbiamo avuto casi in cui anche in Italia è successo questo e uno l'ho avuto io personalmente a Verona con un bambino che abbiamo portato e l'ho visto morire, l'ho visto ansimare questo piccolo bambino che aveva anche problema e ne è stato lasciato morire. Ho visto la madre che era presa da due fuochi ed era salvare il figlio con la trasfusione oppure farlo morire. E leggevo tutto il dolore di questa donna eppure l'hanno lasciato morire a Verona. Ho tutta la documentazione, ero responsabile del comitato di assistenza. Perché? Perché c'è una controversia interpretazione di un versetto della Bibbia sull'astenersi dal sangue e loro lo applicano anche quando la persona è necessario, quindi per la vita, la trasfusione di sangue e creano queste cose anche nei bambini, non soltanto negli adulti. E questo è contro la Bibbia perché se uno va a leggere la scrittura di Samuele quando per esempio Dio aveva dato disposizione di non mangiare la carne col sangue, proprio Dio, la Bibbia dice che queste persone, cioè il popolo di Dio, tornando da una battaglia, non aveva da bere, non aveva da mangiare, non aveva nulla. E allora cosa fecero? Pesero le pecore, gli animali che avevano e li scannavano e si buttavano, dice la Bibbia, e mangiarono col sangue. E quindi disubbidirono Dio. Cosa ha fatto Dio? Li ha distrutti? Li ha uccisi? No. Li ha perdonati. Non li ha massacrati. Come oggi succede a un testimone di Geova se fa la trasfusione di sangue che viene buttato fuori a uno stracismo brutale e insopportabile. Ci sono sentenze dello Stato in circa questi casi? Io non ho sentenze, non credo che ce ne siano, io sto sollecitando da diverso tempo e lo chiedo ancora anche attraverso qual è l'autorità che deve controllare queste cose. Chi le deve controllare? Chi può venire a casa di Rocco e dire dacci quella prova che stai dicendo? E io ce l'ho. Ho le prove, ho il nome, il cognome di tanti. In 40 anni ho visto morire tanta gente. A Modena, solo a Modena. Il problema è questo, e concludo l'argomento, che molte organizzazioni che forse lavorano per lo Stato, eccetera, dicono ma no, i testimoni di Geova scrivono queste cose, ma nella realtà poi non è vero niente. No! Questo viene trasmesso pari pari, entra nel DNA del testimone e il testimone lo applica alla lettera e quindi ci sono migliaia, migliaia di famiglie in Italia che soffrono, poi c'è in Europa e nel mondo, come abbiamo sentito. Ed è una sofferenza che dispiace dirlo, ma è stata dimenticata da tutte le autorità. Io, se c'è un giudice che mi sta ascoltando, se c'è un avvocato, se c'è un'autorità, un politico che vuole prendersi a cuore queste cose, ci sono documentazioni. Io potrei portare qui, nel vostro studio, centinaia di persone che possono testimoniare quello che sto dicendo. Sì, penso che la cosa più bella sia anche lasciar trasparire che noi stiamo dicendo queste cose non tanto per distruggere qualcuno, tanto più che altro per distruggere qualcosa, cioè una cultura che non è una cultura della vita, non è una cultura biblica, strettamente biblica in senso proprio. Torniamo alla storia di Adriano, perché l'ultimo capitolo della sua vita gli riserva comunque una vita che rinasce. In un momento di disperazione, che poi non è un momento, sono anni, in periodi critici se tu riesci a condividere con altri il tuo peso, il tuo peso è più leggero. Io l'ho condiviso con altri, altri l'hanno condiviso con me, ma soprattutto per me è sempre stata d'aiuto la fede, cioè la fede cristiana, intendo l'anima vera della fede cristiana, io non l'ho mai abbandonata e poi io credo che non c'è soltanto l'aiuto della fede, perché da credente c'è l'aiuto della fede che, come dire, accetta anche un laico, la fede come aiuto psicologico, supporto, poi c'è l'aiuto di Dio quello vero, un po' come dice Atti degli Apostoli, c'è più felicità nel dare che nel ricevere, quando dai ricevi anche e nell'aiutare altri aiuti te stesso. Io sono 27 anni che riesco ad aiutare altri e altri aiutano me a fare informazione perché non è rancore, ma il desiderio di ristabilire la verità e di aiutare tante persone, uno a non rovinarsi l'esistenza entrando in un gruppo del quale magari non sanno nulla e due aiutare tante persone a ritrovare la strada di una fede vera, di una evangelizzazione vera, perché anche se io l'ho compiuta con desiderio pulito e convinto di portare la verità, ti rendi conto che comunque quando vai di casa in casa sei strumento di un disegno più grande, che è innanzitutto un disegno commerciale. Il testimone diceva che vanno di casa in casa, non ci vanno con la Bibbia alla mano, ma ci vanno con due copie della Torre di Guardia da vendere, due copie della Svegliatevi, il nuovo libro ed è un susseguirsi e un vendere pubblicazioni. La società della Torre di Guardia su questo ha costruito il proprio imperio, il proprio potere e quindi questo non è evangelizzazione, ma è proselitismo mischiato a un'opera di marketing e a un'opera che è anche commerciale. Mi sembra che in quanto testimoni di Geova ci sia un po' la pretesa di essere puri, tra virgolette, mi sembra i 144 mila segnati dell'Apocalisse, ma non è un controsenso cioè ritenersi puri, giusti e poi andare casa per casa non con la Bibbia ma con i libri della casa editrice interna, cioè non dovrebbe venire qualche sospetto. Per quanto riguarda la purezza dei 144 mila è un argomento che potrebbe avere bisogno di tanto tempo perché hanno cambiato completamente tutto, cioè testimoni di Geova quei 144 mila non sono gli stessi come una volta, il corpo direttivo non è più quello di una volta, alla grande folla, quindi avremo bisogno di tanto tempo per spiegare che hanno cambiato completamente tutto. I testimoni di Geova stanno vivendo un trambusto enorme, loro stessi nell'interno non capiscono più, sta arrivando torre di guardia su torre di guardia con cambiamenti su cambiamenti, però per quanto riguarda il discorso della purezza in senso di predicare la parola di Dio portando riviste, è vero, loro ne stampano 84 milioni al mese, se solo uno contribuisce per un euro possiamo immaginare cosa avviene, sono 84 milioni di euro che entrano, ma loro dicono noi le diamo gratis, sì, perché loro dicono poi che la contribuzione la gente la dà volontaria, a volte può dare di più di un euro, 2, 3, 5, potete immaginare, ma hanno 100 e passa pubblicazioni e una di queste costa di più e quindi è un flusso di denaro enorme che entra dentro a questa organizzazione, quindi Adriano aveva del tutto ragione. Sì, parliamo anche di denaro appunto, perché tu mi accennavi di alcuni casi che stai raccogliendo che riguardano degli anziani. Sì, veramente non è stata una raccolta, ma noi abbiamo un'associazione a Modena, si chiama Quo Vadis APS, che riceve 30 telefonate a settimana di persone che chiedono aiuto, è praticamente un'associazione che si mette a disposizione per tutti coloro che fuoriescono da organizzazioni devianti e rimangono veramente scioccate. Alcuni di questi hanno telefonato, ci hanno fatto vedere le lettere che hanno scritto, di anziani che vengono attratti da una particolare attenzione dal testimone di Geova che è andato in casa sua. Quindi le dedica più tempo del normale, non va solo per studiare la Bibbia, ma lo porta alle visite mediche, lo porta a fare la spesa, perché? Perché i figli si trovano in un'altra città e anziché chiamare il figlio e dire guardi che io sto facendo questo e trovare un accordo, stanno zitti, eccetera, cosa è successo? Si lasciano intestare la casa, i soldi di queste persone e così via. Quindi sono realtà che io posso dimostrare. Anche questo, chi deve controllare queste cose? Poco tempo fa, è successo pochi anni fa, che per le badanti che venivano in Italia e si sposavano con persone più vecchie per avere, eccetera, così c'è stato un controllo da parte delle autorità. Perché non viene anche in questo caso per vedere come mai queste persone che entrano subdolamente nel nome di Dio, ma poi ne escono con una casa, con i soldi, escono con le persone di queste persone? Probabilmente bisogna parlarne di più con l'attenzione, la carità, la delicatezza, ma comunque sempre la passione per la verità, che è quello che accomuna te e Adriano. Adriano alla fine arriva a dire che questa condivisione dei pesi degli altri comunque gli ha dato anche un senso, ha dato un senso anche alla sua battaglia e penso che sia così anche per te, no? Ma la cosa bella è che tutta questa vicenda pesante dentro cui il nome di Dio risuonava più e più volte non ha impedito ad Adriano di avere comunque una fede, è così anche per te? Certo, la cosa che vorrei anche mettere in risalto è che i testimoni di Geova dicono che noi siamo apostati, nel senso che abbiamo apostatato Dio, ma non è così. I testimoni di Geova che sono fuoriusciti sono persone che sono credenti in Dio, io credo fermamente in Dio, e ha apostato quell'organizzazione, cioè io non sono più d'accordo con quello che dice questa organizzazione. Poi un'altra cosa, con lo stesso sincero desiderio che ho portato tanti testimoni di Geova, io adesso voglio farlo con lo stesso e sincero desiderio a non far cadere dentro tante persone vittime come lo sono stato io. Cioè è una battaglia amorevole quello che sto facendo, non so se mi spiego. Certo. Loro hanno diritto di esistere i testimoni di Geova con tutte le loro strutture, quello che vogliono. Quello che io abborrisco è quello che stanno facendo e praticando, e cioè l'ostracismo, la mancanza di vita, i diritti umani che vengono lesi, il rapporto familiare, le famiglie distrutte. Queste cose che abbiamo appena citato, ecco, queste cose non dovrebbero esistere in un paese come il nostro che basa sulla famiglia proprio l'unità e la trasparenza la più bella dell'amore che Dio vuole che abbiamo. Adriano arriva a dire che aveva colto di essere parte di un disegno molto più grande, in quel caso un disegno commerciale dove giravano tanti soldi. Anche per te però magari di un disegno di vino? Beh, quello di commerciale, sì, lui aveva più la possibilità di vederlo perché essendo stato all'inizio coinvolto a Visto Manchi, posso dire che il discorso commerciale oggi sta coinvolgendo sempre di più questa organizzazione. I testimoni di Giova stesso si stanno trasferendo, costruendo una super mega città con i soldi di questo gruppo di persone che contribuiscono gratuitamente. Pensavamo all'inizio di far parte veramente dell'organazione che aveva la verità, che veniva tutto da Dio. Loro hanno pubblicazioni dove c'è la mano di Dio che riversa le riviste Torre di Guardia e svegliatevi che vanno a finire da Rocco, da Giuseppe, da Francesco e così via. Questo era quello che noi pensavamo. Ma abbiamo capito che le cose stanno veramente molto lontane da tutto questo perché Dio è amore e non vuole che le persone soffrano. E probabilmente oggi nella tua vita stai vedendo che Dio che è amore usa tutto anche per dare speranza a tante altre persone. Vi ringrazio proprio perché ci date questa possibilità di testimoniare la nostra vita e con tanta sincerità lo facciamo veramente per aiutare altri, non per abbattere. Perfetto. Ecco, questo penso sia la cosa più bella, il messaggio che vogliamo lasciare al termine di questa trasmissione che è stata credo molto interessante. Allora veramente grazie Rocco non solo per essere venuto qua ma per questa battaglia per la verità e per raccontare la speranza che vuoi fare con tante persone in Italia ma penso anche ormai fuori Italia. Grazie ad Adriano che ha voluto raccontarci anche la sua esperienza ma grazie a voi che ci seguite fedelmente a casa e noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Vita che rinasce. Vita che rinasce dentro al cuore 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 Vita che rinasce dentro al cuore